Cosa ne è persa del nuovo governo Monti? Credo che il nuovo governo Monti abbia di fronte a sé una sfida estremamente importante. Vediamo che cosa farà, perché bisogna che diciamo così sostanzialmente. E pensa che sia la persona giusta per questo momento per l'Italia? In questo momento direi di sì, soprattutto visto quella che è stata un po' la situazione degli ultimi anni, direi che sicuramente in questo momento è la persona giusta. Speriamo che risolva tante situazioni lasciate indietro dal vecchio governo. Pensa che abbia le possibilità per operare bene in questo senso? L'aiutano tranquillamente, ce la farà. Questo difficile momento economico per l'Italia, secondo lei di cosa c'è bisogno? Ed è una tranquillità, specialmente dalla parte politica, che non si scannino come si sono scannati fino a ieri. Devono rassicurare i giovani e anche le persone anziane che devono fare la loro vita tranquilla. Speriamo che faccia bene, mi sembra che l'inizio è giusto. Quindi la fiducia in questo governo? Sì, molta. E crede che sia stata una scelta giusta quella del governo tecnico invece di andare alle elezioni? Per me sì, perché le decisioni che deve prendere sono drastiche e quindi gli altri non le avrebbero presi. Credo che sia arrivato il momento che era giusto cambiare, perché è una persona esperta che ha dato dimostrazione di saperci fare. Vediamo se riesce a metterci a posto. Quindi lei ha fiducia in questo governo? Sì, molta fiducia. E pensa che potrà risolvere anche gravi problemi economici in cui... Non è che tutti ci mettiamo del nostro però, perché siamo un popolo che spende troppo. Cosa ne pensa del nuovo governo Monti? Ha fiducia in questo governo? Io se non è stato eletto, che è stato nominato dal Presidente della Repubblica, non è un governo legale. Quindi lei pensa che avremmo dovuto andare alle elezioni? Alle elezioni, sicuro. Noi siamo in democrazia e il governo è seletto dal popolo, non fatto così da una persona.